Gentili telespettatori, buona giornata. Letta chiude al presidenzialismo e dice che la vera Meloni è quella che era andata al comizio da Vox in Spagna. Letta aggiunge che bicamerale o no non è questione di metodo ma di obiettivo e aggiunge che le idee della Meloni sono condivise con i post franchisti. Letta chiude al presidenzialismo quando il presidenzialismo era un qualcosa che voleva anche il Partito Democratico. Loro chiudono al blocco navale che aveva fatto Prodi nel 97 e che aveva proposto l'Europa anche con Gentiloni del PD. Insomma il PD chiude a qualsiasi cosa proponga il centrodestra anche se quelle proposte erano assolutamente condivise. da loro. Intanto mancano 18 giorni alle elezioni politiche. Letta dice che nessuna riforma costituzionale in senso presidenziale, nemmeno riunendoci in una bicamerale. Quindi lui non vuole, perché la Meloni ha detto mettiamoci tutto intorno a un tavolo e decidiamo cosa fare su queste riforme, come farle, non come fare. Perché se il centrodestra vince ha i numeri per approvare queste riforme ma vorrebbe condividerle col centrosinistra. Centrosinistra ha sconfitto le elezioni. Ma Letta dice no, no, noi sconfitti non andiamo a discutere su nessuna riforma, compresa quella presidenzialista. Nemmeno con una bicamerale. Noi ci opporremo ad ogni costo al presidenzialismo bicamerale o non bicamerale, ha chiarito il segretario del PD, perché non è questione di metodo ma di obiettivi. Quindi per lui non è il metodo ma l'obiettivo della riforma costituzionale in senso presidenzialismo non la vuole. Perché? Anche se il PD era stato sempre d'accordo al presidenzialismo, è perché lo propone il centrodestra. In quanto loro come unico programma hanno quello di contrastare e dire no a quello che propone il centrodestra, non avendo un programma, ovviamente se il loro unico programma è dire no a quello che dicono dall'altra parte, in questo caso non possono dire sì. Sì, capite che è, come si dice, è una cosa telefonata. Il segretario del PD dice anche noi vorremmo discutere di riforme assieme agli altri, ma le nostre riguarderanno le parti non centrali della Costituzione. La visione della Presidente di Fratelli d'Italia, secondo Letta, è invece, oltre a rivoluzionare la forma di governo fissata dai Costituenti, è troppo lontana dalla sua per pensare a una composizione in commissione bicamerale. Allora, lui parla la forma costituzionale fissata dai Costituenti, padri Costituenti, ma il PD ha cambiato tante volte la Costituzione. Parliamoci chiaro, oggi una riforma della Costituzione che vuol fare la destra è allarme democrazia. Ovviamente è un modo di far politica molto superficialotto, molto all'acqua di rose, teatrale, senza delle basi concrete. Una sinistra italiana che non ha nulla da dire. Non ha nulla da dire. Ma Letta dice che il vero programma della Meloni è in quel discorso che fece in Spagna, di fronte alla platea Vox, partito post-franchista. Non è nei discorsi moderati che fa ora in campagna elettorale. Dice, la vera idea sui grandi temi del futuro dell'Europa è proprio quella che lei va a fare all'estero. In quel discorso dice c'è tutto. Vox, sui grandi temi dell'Europa, ha preso le posizioni più oltransiste e negative. Questi sono i loro alleati. La nostra idea di Europa è esattamente l'opposto. È l'idea dell'Europa della solidarietà, che ci ha dato i fondi del PNRR che poi noi porteremo avanti. Quindi Letta dice noi porteremo avanti i fondi del PNRR e gli altri no. Perché gli altri no? Non c'è nessun motivo. Sono delle cose dette così a vanvera, senza nessun fondo di realismo. Mancano 18 giorni al voto. Anche Conte ha le sue perplessità nel cambiare la Costituzione in senso presidenzialista. E dice, chi propone il presidenzialismo non ha le idee chiare. E la mia domanda è, scusi Conte, perché non avrebbe le idee chiare proporre il presidenzialismo? Ma non c'è ovviamente nessuna risposta. Anche queste sono parole a vanvera. Perché se voi dite, chi propone il presidenzialismo ha le idee confuse e uno gli dice perché e cambia discorso, significa parlare a vanvera. O no? Mi sembra ovvio. E Conte aggiunge, la nostra tradizione parlamentare è completamente diversa. Ogni sistema richiede pesi e contropesi. Lui dice, fare il presidenzialismo, il nostro sistema parlamentare è diverso. Eh, appunto. Si fa il presidenzialismo perché si cambia il sistema parlamentare. Non puoi dire, il presidenzialismo non mi piace perché il nostro sistema è diverso. E certo, se fosse lo stesso ci sarebbe già il presidenzialismo. Capite che sono altre parole a vanvera. Comincia ad avvicinarsi molto a Nicola Zingaretti. Ve lo ricordate? L'uomo che ride. Vabbè. Possibilista invece è il leader di azione Calenda. Dice, una bicamerale è una buona soluzione per discutere di riforme costituzionali. Ma il paese avrà altre emergenze. Anche qui, in un video ieri, avevo risposto a Calenda dicendo Eh, ho capito, il paese ha altre emergenze. Va bene. Ma non è che il paese deve fare una cosa alla volta. Mentre discute un'emergenza, può anche discutere la riforma costituzionale. O i parlamentari sono capaci a fare una cosa alla volta. Non possono fare due cose contemporaneamente. No? Eh, è come uno che dice, ma la priorità è lavorare. E allora non pulisci la casa. Eh no, la priorità è lavorare. Eh, la priorità lavorare ce l'ha avrai fino alla pensione. Poi dopo sarai in pensione, la priorità saranno altre. E allora non pulisci mai la casa. No? Le cose si fanno in contemporanea. Devi andare a lavorare, portare i bambini a scuola, pulire la casa, pagare le bolle. O fai una cosa alla volta. Eh? Ecco. Insomma. Quella della... L'emergenza è una storiella che i politici continuano a raccontarci, no? Io voglio fare questo. No, le priorità è un'altra. E un altro dice, voglio fare questo. No, la priorità è un'altra. Come se la politica dovesse fare una cosa alla volta e non pensare a nient'altro. Questa è una vera e propria sciocchezza. Quando i politici non sanno cosa dire su una proposta che piace anche a loro, ma la dice un avversario, eh, ma non è la priorità. Sì, vabbè, ma non è la priorità. Intanto Letta poi ha concentrato i suoi attacchi verso la Meloni. Dice, la destra italiana è nerofossile. Ma cosa vuol dire nerofossile? La democrazia non è a rischio se vince la destra e il nostro sistema regge, gli italiani scelgono. dice poi la, un esponente di Fratelli d'Italia. Quindi l'Italia, la destra italiana è nerofossile. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.